Scollettivo Metropolitano primo, ma vi dico ATAC, vi dico Bucrossing? No, diciamo... No, diciamo... No, diciamo, diciamo che Scollettivo Metropolitano perché noi all'ATAC ogni giorno ci attacchiamo nel senso che pigliamo il vagone e certe volte veniamo anche in metro a fare improvvisazione allattiamo da questa lupa che manda in coma no, al massimo l'ATAC a re di Roma e porto questa rima e l'ATAC è la metro e la monetina alla fermata di Anagnina adesso sembra strano ma l'ATAC che ci adotta è la porta Scollettivo Metropolitano sopra il libro facciamo la festa il libro dell'ATAC forse mi cade in testa di essa porto questo rap in azione ogni volta che lo faccio qua dentro la stazione fino a Cipro Scollettivo Metropolitano questo è un freestyle o almeno ci proviamo Grazie!